Buongiorno, oggi celebriamo la memoria della presentazione di Maria al Tempio, una festa legata alla devozione che il popolo cristiano ha sempre avuto per la madre, riconoscendola consacrata a Dio fin da bambina. Una consacrazione che significa fondamentalmente un rapporto intimo e privilegiato con il padre, una dimensione di ascolto costante della voce che viene dall'alto verso il cuore di questa fanciulla che a Nazareth potrà riconoscere l'annuncio dell'angelo come un inviato di Dio per la familiarità quotidiana a cui si è abituata proprio con il Signore. In questa nostra memoria liturgica il Vangelo che ci viene proposto è dal capitolo 12 di Matteo, i versetti dal 46 al 50, che mette in evidenza proprio la relazione privilegiata di Maria alla madre con la parola di Dio. Quando infatti a Gesù già diventato grande e impegnato nell'annuncio del Vangelo del Regno di Dio alla folla, la madre e i parenti di Gesù lo vanno a cercare per parlargli Gesù stesso, che dice che sua madre e i suoi fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre che è nei cieli. E in questo allora riconosciamo indirettamente proprio ciò che Maria è veramente, sempre con lei che fa la volontà del Padre che è nei cieli. Ed è proprio lei che lo ha insegnato anche al figlio Gesù a vivere questa esperienza di intimità con il Signore che diventa poi una prassi, un agire concreto, compiere le scelte secondo la parola di Dio e alla luce della sua logica che è diversa dalla logica dell'uomo. Per noi questo diventa un invito oltre che una certezza, quella di avere in Maria un sostegno sicuro, un modello e una compagnia di viaggio e per quanto riguarda la nostra esistenza domandarci quotidianamente nel momento in cui dobbiamo fare delle scelte se abbiamo consultato adeguatamente il Dio che ci ama e che conosce il nostro bene, se abbiamo speso il tempo dovuto alla parola per lasciarci illuminare dalla sua forza e dalla sua sapienza, se ci siamo impegnati a intrattenerci con Gesù, nostro fratello, perché ci riconosca nel nostro desiderio di fare come Lui solo e sempre la volontà del Padre. Buona giornata.